Ehi, lo volete uno spuntino? Magari! Che ci fai mamma? Una novità? Una grande novità! Spuntì! Nelle due varietà, spuntì alla carne per il fuoripasto appetitoso, spuntì al tonno per il fuoripasto gustoso e che sostanza! Ecco qui! Indovinate cos'è? È tonno! È carne! È spuntì! Nuovo dalla Simmental Spuntì! Il nuovo modo di fare lo spuntino!